sono io forse però dovuto nascondere le cuffie perché mi si stava attaccando il gatto e mi sta mangiando le mani aia aia dormi dai fai le nenne ma lascia così come? ah l'altro qui oh carino eh mi fici ancora un po' di coca un mio pettino non è che venga solo il bicchiere che c'è stato tu? e basta ok Samo fai partire pure la live ok 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 cja πάbile tiff ok Allora, non gioca. Sì, sì, esce dentro. Sì, sì, esce dentro. Ok, è andato ad invitarli. Era la squadra di Lyle quella di poco fa. L'ha scritto. Ci gioca. L'ha scritto. Ha detto Bagamaglia. L'ha scritto. No. 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 ok ma da c'è si stavo facendo addormentare la gatta è provato sotto il grasso no un po' di sedativo ma da nulla e mi stava aggredendo i cordini della felpa il filo delle cuffie poi si è accasciata sulle mie gambe e io sto dormendo cioè io sto giocando con lei in braccio esattamente così sì sì ok vai per a ok 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 dai ragazzi spirito spirito ci sono tolti ancora che sono usciti di nuovo non mi sono paura del tuo tiro no no ragazzi no va che spuntavano nera di col vena allora vi conviene uscire non manco ecco la presa quel nano no 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 ma mi sa che bug maglia è infinito e il crash che sono due ah quindi possiamo stare tutta la notte qua fino a quando ci sarebbe esatto ok no no già l'avamo fatto solo che hanno detto che non gli è andato ok hanno detto ok 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 ah ho capito ho capito eh non l'ho capito che questa gattina qua mi ha preso come sua madre ci hai visto con tre la foto sul gruppo cioè si è drumentata così la invita pure Salvo e e quindi che qui in teoria è sempre un grande piacere a questo gioco è stato San Mamez in Bilbao io sono Derek Ray qui sono qui e qui si prepariamo e questo è stato un gioco 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 ecco un gioco un gioco un gioco un gioco un gioco e qui a casa bravo bambi bortolotti good work to win the ball back high up the pitch an attack full of promise he made it look simple really oh lovely incisive pass that is goalkeeping of the highest order and of the bravest order as well well it's not all about tipping balls over the bar and around the post it's about being brave and diving at players feet bravo andrew bravo andrew bravo stupido bravo 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 ragazzo mazzarazzare da 29 cattivi, cattivi ragazzi, cattivi, ringhiamo, buono buona con l'arancione, puttana madonna ce la sto dando, no, sti ragazzi, per non mandargli in fuori gioco, bravo andrea è rovescia stada lanti, stada lanti bravo, vioci, subito, subito non dobbiamo mai perdere la palla, di qualsiasi cosa accada, ma è piuttosto che buttiamo in avanti però lì non va mai perso bravo, bravo, bravo dai ragazzi, su se non mi capisce, con la testa, dai non ci si 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 Non è uscita. Ha fatto il passaggio anche in ritardo. Buona. Paura. Un punto corto. Tre, uno, uno. Bella. Buona, brava. Bravale. Questo è Bupiele. Sì, Bupiele. Oh. 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 Ramos. No, non è proprio quello che voleva fare con il passaggio. Un minuto di tempo di stoppaggio ha stato aggiunto. E scopo per loro per produire qualcosa di divertente. Crescendo possibilità. Un'occhio che è il 45esimo. Via, via. Bravo. Dai raga, almeno un'altri due possiamo farli eh. Eh, anche di più secondo me, Berto. Però dobbiamo farli. No, no, non volevo svegliarti. Andai a dormire. Cosa? Dormi con la testa su che fai un'oppressione. Sì, va giù. Puglia. Puglia. Eh, ma non per te. Non. Guarda, no. Tutta concia di tu madre, gansara di merda. Non lo so potralli dare per me. Puglia di tu madre. quella puttana figa di tua madre perché non l'hai presa maledetto strumenti è bene, è bene, è bene bene, bravo quando stai fronte ragazzi che prendi un pezzo forza dove mai scatta mandati maledetto bravo è una porca madonna che culo dio cristo dai 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 che riandiamo avanti rossi dacci una mano più dietro tra poco avanti facciamo patica io franco ma che non preoccupi la giunta usando spazio sull'occhia l'occhia di fronte un attacca con la promessa Bella. Bravi. 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 Dai. Dai, dai, aspettamente, su, 4-3 per noi, dai. Ancora l'1, ancora l'altra lenda. Non è un'esercitazione. Brava Alberto. Aspettiamoli centrocampista, aspettiamoli, facciamo come diceva Franco, la linea, lì ci devono andare addosso loro, non usciamo dagli schemi, sennò facciamo fatica. Non perdiamoli, non perdiamoli. Non mi ha preso l'affitto, maledetto. SIGA MA DAI. Bastardo. Dai dai dai, ancora, ancora dai. ma non sapevo più Dove mettermi il portocano? Stavo struendo Steve, non l'ho sostruito te Pazzarola l'ho Ed è che non si muove questo Un brutto troione Honda Stai a livello qui, ma la pressione è escalata Flockeri No, non è così, ragazzi Perché? Ma... 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 Fai quello decisivo dopo, fai quello decisivo dopo Dai, 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 dai Questa... Che credo che questo gioco farà Dai Lungo linea Questa è un pezzo molto impressionante di difendere Questa è un po' Ma... Porco... Questa è un po' 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 Mi la prende Fai il culo, dai Sì, da un 5 a 4, non è un 6 a 4 brutto guardate i gol fatti le azioni fatte subì fatti e subiti ma fatti le ters 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 ho fatto due gol su dei rimpalli che è rimasta lì la palla uno abbiamo regalato uno si regalato o noi mai una cosa del genere c'è un culo così bravo un po' Grazie. Grazie.